benvenuto alla presentazione del corso le matrici del punto zero da più di anni e mezzo ormai utilizzo queste matrici per creare qualsiasi tipo di cosa dalla macchina del punto zero che ho creato a disegni che rispondono alle intenzioni e questi disegni sono stati considerati una vera svolta nel settore della radionica. Persone che facevano radionica e radiestesia da 20-30 anni non hanno mai visto nulla di simile e hanno trovato davvero in questi disegni la soluzione definitiva perché puoi farci praticamente tutto con due semplici disegni. In questo videocorso ti insegnerò come puoi utilizzare queste matrici del punto zero che trovi qui in basso, come sono arrivato a creare queste matrici e come davvero puoi utilizzarle per fare tantissime cose nella tua vita. In più troverai una raccolta di testimonianze che ho ricevuto in questo anno e mezzo che ti aiuteranno a far aumentare la tua fiducia in queste matrici, in questi disegni e utilizzarle al meglio. Quindi se vuoi seguire questo videocorso ti basta semplicemente accendere ai prossimi video che trovi in questa pagina. Un caro saluto Loro e Sighetti